Un saluto a tutti e ben ritrovati a TheWorld225 con un nuovo video un po' tremolante perché come sapete questi video li devo fare con il telefono e purtroppo non avendo un bipode o qualcosa del genere la mano trema un pochino comunque a parte il tremolio ovario e i problemi che ci saranno vi volevo mostrare il nuovo pc, eccolo qui in tutto il suo splendore rimesso sul tavolo adesso è un po' buio da questo lato vediamo se è girandolo così, esatto, forse così è meglio si intravede, là c'è quell'orecchio che sta lavorando, sta facendo i salvataggi di tutte le cose che ho bisogno comunque volevo mostrarvi in video l'unboxing cioè l'unboxing l'ho già tirato fuori dallo scotrone, è stato anche problematico è già un giorno che ce l'ho ho fatto tutti i test di sorta ops, mi sono accogliendo a abbassare la telecamera ho fatto tutti i test di sorta con un po' di programmi anche qualche gioco pesante GTA V, funziona bene a parte questo devo ancora caricare tutti i settaggi per fare i video, eccetera, eccetera quindi ci vorrà un paio di giorni perché questo computer diventi operativo ma no problema avviciniamoci un po' adesso al computer come vedete è un case Corsair come potete vedere qua dal logo vedete qua Corsair c'ha questi due mega ventoloni che se voi vedete qua adesso il mio computer vecchio è proprio uno scatolotto prefabbricato, preassemblato senza troppe aspettative e mi è durato sei anni, adesso altrimenti lo rivendo non per una grandissima cifra sui centinaio di euro ma già è un buon affare per quel computer lì che ha sei anni come vedete questi due mega ventoloni che offrono un perfetto raffreddamento con la griglia adesso provo a girarlo anche così, vediamo eccoli qua qua c'è il lettore DVD da 4 euro proprio basico vediamo se riesco a fare zoom con le prese davanti due prese usb gli jack per mettere microfono e cuffie il coso per spegnere, il coso per riavviarlo davvero utile quello per riavviarlo anche se da comunque si accorge windows che è stato riavviato in malo modo questa lucina poi servirà per far luce dentro se non si vede ah la luce qua c'è lo scompartimento per vedere al suo interno cioè purtroppo meno male, c'è solo due luci davanti qua di notte si illumina quando è buio si illumina un po' di bianco ghiaccio poi magari lo vedremo anche acceso e quindi lo sportello col vetro lì con la plastica, non è vetro con la plastica, intanto vi si vede il riflesso ciao ragazzi con il riflesso non con il riflesso con lo sportello per vedere all'interno non è molto utile perché è abbastanza buio di sera perché c'è solo due luci ho detto non si illumina neanche lì si dovrebbe intravedere la gtx 660 adesso se non faccio casino avevo già svitato ho svitato? no, manca l'ultima qua ci sono le viti ok eccolo qua via il pratico aggeggio lo metto sul mio letto e andiamo a vedere un po' cosa c'è sotto il cofano andiamo a vedere un po' cosa c'è sotto il cofano sotto il cofano come avevo detto abbiamo quella che interessa più a tutti cosa c'è qui dentro c'è una gtx 960 adesso vi faccio vedere anche la scatola qua ci sono tutti i miei libri del liceo tanto questa è la scatola che vedremo dopo la metto qua cosa mi è stato regalato eccola qua gtx 960 versione della gigabyte overclockata a 1279 megahertz boost clock bla 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 c'è la scatola che spiega tutte le varie le varie cose eccola qua insomma gente che ne capisce ne sa sicuramente più di me qui c'è anche il disegnino bello arrivederci poi abbiamo qua abbiamo la scheda madre sempre di casa gigabyte eccola qua H97D3H che sicuramente io quando me l'hanno detto non so cosa sia comunque ultra durable mi fido lo spero più che altro intel core bla 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 ultra durable motherboard c'è tutto qua della gigabyte se l'altro era più asus perché avevo tutto asus dentro sto scatolotto dell'hp in questo caso madonna l'allergia mi sta uccidendo ragazzi all'allergia al polline non l'augura nessuno qua in questo caso siamo passati tutto a un set gigabyte che per il momento mi sto trovando benissimo lì vediamo se riusciamo a farlo vedere non ho più lo scatolotto perché l'ho buttato visto che non serviva per la garanzia mentre quelle servono per la garanzia qua abbiamo il nostro processore con il dissipatore stock di base perché non essendo un intel i7 4790 ma non k quindi l'overclock non ho intenzione di farne non ne farò quindi mi andava benissimo il dissipatore di base che vedete comunque rispetto a quello mio vecchio è decisamente più grosso 8 giga di ram eccola lì G-Skill bla 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 vediamo se riusciamo se riesco a farvi intravedere la marca eccola lì G-Skill bla 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 8 giga quindi c'ho altri 3 slot liberi volendo qua abbiamo il Thermaltake Berlin 630 watt bla 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 con la bella porta di Brandeburgo qui abbiamo gli hard disk quelle da 1 tera è lì nascosto io sinceramente non l'avevo manco visto qua c'è l'SSD qui abbiamo qualcosa per togliere vedete per rimuovere qualcosa non so cosa sia devo leggermi un po' anche il case come si possono rimuovere le varie cose comunque qua è il lettore dvd è che abbiamo analizzato tutto insieme a questo computer ho dovuto fare degli acquisti extra la 1 è stato questo pratico che mi è stato imprestato per il momento è stato questo pratico adattatore perchè magari lo faccio perchè magari qualcun altro ha necessità questo pratico adattatore lo metto qua che è su bianco questo pratico adattatore convertitore insomma di frequenze da dvii a è la versione a vedete con dovevo centrare il coso vedete qua c'è il buco in mezzo i 4 pin qua di fianco cerco di mettere a fuoco ecco qua la versione a è la versione a non quella d che trasmette frequenze digitali perchè purtroppo cioè purtroppo forse anche ora come possiamo vedere qua dietro la mia gtx 960 non ha più la presa vg potete anche vedere che il mio schermo è un po' datato un samsung per carità fa la sua porca figura infatti per questo non ho nessuna intenzione di cambiarla e quindi ho dovuto cambiare questo adattatore c'è la presa hd ma hd non non prende bene il mio computer non è non supporta pienamente in teoria c'è scritto ecco qua hd ready lì bam però che ha dei problemi si vede male cia 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 quindi ho preferito farmi imprestare da un mio amico questo che lo usava già quando a suo tempo quando anche lui aveva dei problemi del genere poi si ha cambiato schermo ma l'ha imprestato tranquillamente e mi ha detto a me ogni tanto avevo comprato i due e non funzionavano e poi ho letto e mi sono informato comunque ho comprato anche questo da dalle amazzoni da amazon che è un trasformatore in questo caso attivo in pratica trasforma il segnale dv dv d che sarebbe il secondo qua questo qua no questo qua con il trattino orizzontale mentre qua vedete ci sono i quattro pin e quello dv a in pratica quello a trasmette solo in analogico e in digitale mentre quello d trasmette solo il segnale digitale comunque questo qua non è là ma è lì io poi è uguale alla fine si interscambiano là e lì comunque se avete bisogno di consigli ho letto abbastanza approfonditamente a riguardo perché avrò bisogno e l'ultimo acquisto anzi no c'ho ancora due acquisti da mostrarvi uno è l'adattatore per il joystick dell'Xbox che è quello qua vediamo se riesco a farlo vedere cinesata proprio presa da Amazon per 3-4 euro dato perfetto e l'altro invece mi è stato sempre preso da Amazon ma dalla mia ragazza e sono le Logitech G230 eccole qua vedete nuove cuffie eccolo qua la scatola scatolata con le istruzioni GT230 Logitech quindi dovrebbe essere un bel passo avanti rispetto alle vecchie cuffie che avevo che erano proprio delle cinesate anche quelle lì c'è un'altra ventola che l'ho fatto vedere mi sa che abbiamo detto tutto adesso lo vedremo un po' in azione come ho detto ho fatto un po' di testing già sul computer ottimo adesso vediamo se riesco a farlo ma si dovrebbe vedere abbastanza bene lì ottimo cablar vedete il cablaggio perfetto perché si può togliere anche il pezzo dietro lì assolutamente non si poteva cablaggio ordinato adesso qua inserirò un altro hard disk devo solo capire bene come posizionare i cavi perché non creino troppi problemi ma vedete che qua comunque c'è un sacco di spazio qua in tutta questa zona qua quindi posso tranquillamente metterci un altro hard disk che lo toglierò da lì che ne avevo due e nulla direi che abbiamo risolto abbiamo fatto anche questo un piccolo unboxing e spiegazione lì c'è la mia vecchia scheda video che tristezza quindi computer ok adesso ho fatto un po' di test ci vediamo al prossimo video ciao ciao